Buongiorno a tutti, eccoci arrivati a una lezione che riguarda prevalentemente il finale. Il finale è troppo complesso per poter essere gestito in poco tempo, però possiamo capire uno dei concetti basilari e la lezione prossima capire una delle tecniche essenziali utilizzate. In questo caso oggi impariamo la tecnica del doppio sente, in inglese double sente. Cosa succede? In questa posizione qui vediamo che il territorio è grosso modo pari, vedete che il bianco ha 14 punti, forse 15, anzi 15 sicuri, il nero qui ha 12 punti, 13, 14, 15, siamo circa pari. Cerchiamo di capire l'importanza di giocare per primi, cioè avere sente, avere come dicevamo all'inizio l'aggressività, la prima mossa. Se vediamo muovere per primo il nero, il nero potrebbe giocare questa mossa. Questa mossa è sente, perché? Perché se il bianco non gioca niente, il nero continua a giocare in questa posizione e mangia ulteriore territorio al bianco, quindi il bianco è obbligato a rispondere. Il bianco risponde in questo modo e anche questo è sente per il nero, perché se il nero non fa niente, il bianco cattura la pelina che ha giocato il nero. Cosa succede? Che il nero gioca in questa posizione e apparentemente questo sembrerebbe essere gote. Tuttavia questo non è gote, perché è ancora assente. In che senso? Se il bianco passasse, ad esempio giocasse questa mossa di passo, il nero potrebbe giocare questa mossa qui e quindi catturerebbe la pelina, perché come vedete non riesce a salvarsi. Cosa succede? Che la mossa quindi del nero giocata in questa posizione, che sembrerebbe essere una mossa difensiva, è in realtà ancora sente. Unita a questo sente iniziale, diventano double sente, doppio sente, anche se apparentemente è gote. Il bianco quindi è costretto a chiudere il discorso con la pelina, calcoliamo, abbiamo supposto un comi uguale a 0, altrimenti diventa troppo complesso gestire. Cosa succede? Che il bianco perde e il nero vince. Il bianco quindi perde di due punti e il nero vince di due punti. Perché questo? Perché il nero ha giocato una mossa molto frequente quando si raggiunge una situazione di questo genere. C'è una regola che dice che il doppio sente si deve giocare quanto prima possibile, naturalmente bisogna vedere situazione per situazione, però in generale questa frase è vera. Quando siete in questa situazione qui e riuscite a minacciare di entrare, sappiate che questa mossa qua, che apparentemente vi fa prendere gote, in realtà è ancora sente. È molto importante. Questa fa molti punti nel finale. Infatti abbiamo visto che in questo caso qui il nero vince. Notiamo che se la stessa cosa si riproponesse dal lato del bianco, anche questo sarebbe sente. Il nero sarebbe costretto a rispondere, sente ancora, il nero è costretto a tappare in qualche modo, va bene, anche qui. Stavolta le cose si ribaltano. Vedete che il bianco vince e il nero perde, sempre di due, i due punti per il quale prima era riuscito a vincere il nero. Cosa succede? Che nel finale è molto importante avere l'iniziativa, avere sente. Diversamente si rischia di perdere per pochi punti. Arrivederci alla prossima puntata.